Lo stadio Esseneto di Agrigento ma soprattutto benvenuti alla sfida salvezza Agregas Locri trentesima giornata del campionato di serie di Girone I, poste in palio importantissima Luca Litteri, attenzione Sesto minuto di gioco, parte Grillo e un tiro in porta, palla alta sopra la traversa Manno per Grillo, Grillo il cross in aria, di testa, Litteri e palla alta di un niente, applausi per l'Acargas Care Paolo Grillo che cerca Gloria a destra, superato un avversario, Grillo, Grillo, attenzione Il cross sul primo palla, lontana il numero 99 Comito Il tocco di Puglisi e poi prova a ripartire il Locri in contropiede, attenzione Scivola Sanseverino, se ne va in contropiede, il numero 70 Alessio Leveque, ex-Acargas, entra in aria, Leveque, il passaggio a rimorchio, la conclusione Ha segnato il Locri con Costa, ha segnato il Locri Rimangono a saltare i difensori Parte Grillo, palla in aria, di testa Litteri La parata di Colella in calcio d'angolo Poi Garufo per Litteri Servito Caramanno Si affida a Grillo Che alza lo sguardo Grillo, palla sul secondo palo, lunga per tutti Palla sul fondo Amici sportivi, bentornati allo stadio Seneto di Agrigento Ancora un saluto da Davide Sardo Sta per cominciare il secondo tempo di Acargas e Locri Arriva Cuzzilla Leveque, possesso palla Locri Supera Ruffino, Leveque, poi Cuzzilla Palla in aria, attenzione Sorrentino Subisce fallo Ruffino Grillo La conclusione ha segnato l'Acargas Una magia di Paolo Grillo Uno a uno Montreno C'è libero a sinistra Grillo Eccolo servito Grillo Punta della Nardis Grillo carica il destro Deviato La palla è lì, va giù Rigore Acargas Atterrato E giallo per proteste Al portiere Colella Non ha avuto dubbi il direttore di gara Ad assegnare il rigore Bianco Azzurri Atterrato Di Mauro Che ha anticipato l'avversario E calcio di rigore per i Bianco Azzurri Sotto la sud Lo batterà Gianluca Litteri Momento importantissimo Del match Sotto la sud Il rigore dell'Acargas Litteri contro Colella Tutto pronto per il penalty Acargas L'esperienza di Litteri contro il giovane Classe 2006 Parte Litteri La conclusione Ha segnato l'Acargas Ha segnato ancora lui Gianluca Litteri 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 Poi Di Mauro la conclusione Palla sul fondo Parte Grillo Cipolla Il capitano 3 a 1 Baccia la maglia Marsico Duello Ruffino Leveque Alla meglio Leveque E poi Cipolla Salva l'Acargas Che intervento di Alfonso Cipolla O Cipolla Fischietta Fischietta in bocca Finisce qui la partita Stravince l'Acargas 3 a 1 Rimonta Pagania Kipolla Kipolla